Al che mi venne spontaneo, telefonai, ma per quale motivo, di senso, vi state incavolando per la frase, perché il bar non ce l'ha ancora conto, perché il bar non va bene, perché manca l'attacco, perché manca questo, io potrei anche aiutarli, ma come, lui non sapeva che io fossi non vedente, in quel momento lui sapeva che io ero non vedente, disse caro Enzo Tabor, io sono, disse caro Enzo, se qualcuno mi segnalasse a Matarese, io potrei fare parte del tridente, perché c'è la vista, bella vista e io sono senza vista, qui posso via giocare, perché io se non vedo, guarda, il discorso, un bel po' le applausi in diretta.